Un momento di incontro e confronto nonché di elaborazione di strategie sui temi del lavoro, della crisi, delle difficoltà degli enti locali e della mancanza di prospettive per i giovani. La terza edizione di Piazze del Lavoro, organizzata dalla CGL, ha fatto tappa anche a Milazzo. Nei pressi della statua di Luigi Rizzo sono stati allestiti gazebo informativi ed un palco per spettacoli musicali. Dopo la tre giorni messinese, ad aprire la parentesi milazzese della manifestazione, è stato il responsabile della locale Camera del Lavoro, Enzo Sgro. Vogliamo portare in piazza ancora una volta le problematiche del mondo del lavoro, degli anziani, delle popolazioni più deboli, davanti all'attacco di una crisi che sta colpendo particolarmente le nostre aree. La zona industriale del milazzese sicuramente, con la chiusura di molti stabilimenti, con la sofferenza occupazionale, con i ritardi nell'erogazione degli ammortizzatori sociali, ma ancora più la condizione di chi il lavoro neanche ce l'ha, e quindi i giovani in attesa di prospettive, gli anziani che stanno vivendo sulla loro pelle, il rincaro delle tariffe e la diminuzione dei servizi per effetto delle restrizioni dei finanziamenti agli enti locali. Nella prima serata dell'evento, in risalto, la felice esperienza della Libera Università della Terza Età, aperta nel 2011 dall'Auser. Un'esperienza unica che nell'ultimo anno accademico ha portato all'organizzazione di 56 corsi con l'aiuto di 60 docenti volontari, avviando una nuova sede a Santa Lucia del Mela e diventando un autentico punto di riferimento, come evidenza il presidente Lute, Claudio Graziano. Il nostro è un reagire rispetto ad una società che diventa sempre più anziana, questo perché la vita si è allungata, ma è una società anche che esclude l'anziano, perché è una società che va in maniera veloce avanti, e quindi le tecnologie, le parole nuove, l'inglese che ormai è diventato quasi un italiano, e quindi noi reagiamo a questo stato ritrovandoci, ma riprendendo queste nostre informazioni e acquisendone anche delle nuove.